amici e d'amiche di sterani dj ciao a tutti e tutte soprattutto perché sapete che ormai è una rubrica completamente femminile siamo pronti ad iniziare la nuova puntata di mondo donna questa sera una puntata però speciale perché gli ospiti miei e diana siete voi questa sera quindi tenetevi pronti che potete entrare in diretta con noi se volete potete entrare con noi utilizzando il link che già trovate nei commenti trovate nei commenti un link dovete semplicemente cliccare sul link e sarò io a farvi entrare in diretta avete circa un collegamento di 10 minuti per parlare un po con noi quindi per dare spazio un po tutti abbiamo stabilito un po anche il tempo del collegamento questo perché sfortunatamente questa settimana l'ospite non ha potuto raggiungerci quindi la bella anna che al mio fianco è davanti a voi se ci state già guardando nella pagina facebook se non ve lo dico per chi sta ascoltando sterani della soggetta audio saremo io e te a condurre a fare da ospiti ma gli ospiti sarete prima di tutto voi come fare a interagire con noi ve l'ho detto semplicemente cliccare sul link che trovate nei commenti ciao anna benvenuta buonasera stefano approfittate di questa occasione limitata nel tempo quindi facciamo un po tipo televendita se volete interagire con noi mi raccomando cliccate quel bel messaggino che c'è no lo trovate qui sotto nei commenti con il link così ci facciamo un po di compagnia noi siamo degli sperimentatori abbiamo deciso di sperimentare questa cosa qui vediamo un po se ci venite in aiuto ci lasciate soli non ci lasciate soli per favore e chiacchiereremo un po insieme ci potete raccontare i vostri progetti la vostra idea di magari anche sulle donne sul mondo delle donne sulla parità di genere insomma facciamo una chiacchierata molto tranquilla stefano ti è piaciuta questa idea vero molto molto bella come infatti quando me l'hai proposta perché voglio sottolineare che l'idea è stata tua si è stata tu a propormela io l'ho accolta di buonissimo grado perché mi è sembrata un'idea molto molto bella e molto interessante per dare l'opportunità appunto a tutti voi di poter interagire con noi la rubrica è mondo donna ma io abbiamo deciso giustamente di non fare intervenire solo non ma di fare intervenire un po tutte donne uomini bambini bambine ragazzi chi vuole intervenire con noi può farlo può farlo tranquillamente ripeto cliccando sul link che trovate nei commenti quindi se volete interagire con noi su qualunque argomento su un argomento che io andremo a trattare nel corso della puntata o anche se volete intervenire per darci un vostro argomento dal quale parlare bene noi siamo qui pronti ad accogliervi e ad ascoltarvi anna parliamo un po del più del meno a questo punto com'è andata la tua giornata la mia giornata si è andata molto bene ho un po un riverbero torna mi torna la voce quindi spera spero di non impaffinarmi che è un po fastidiosa questa cosa è andata bene la giornata qui c'è un bel sole c'è stato un bel sole perché tramontato da poco e rispetto agli altri giorni c'è il meno freddo abbiamo avuto una bellissima eruzione bellissima spaventosa spettacolare e terrificante allo stesso tempo e penso che ne abbiate avuto notizia tramite insomma i tre giornali notiziari la nostra la nostra etna perché noi la chiamiamo al femminile visto che per noi è la montagna in realtà il vulcano lo sappiamo tutti ma siamo un po cociuti noi siciliani e ha avuto questa questo momento ha illuminato un po la la serata il pomeriggio con con queste magnifiche colate di di lava e per fortuna non ci sono state delle conseguenze pesanti la tua giornata stefano tu lontano dai vulcani lì come l'hai vissuta è lontano ma non troppo perché ti devo raccontare anche l'altro giorno quando mi hai mandato la notizia della vostra bellissima eruzione e mi hai mandato direttamente dalla sicilia privatamente su whatsapp le foto di quella bellissima eruzione la sera apro il sito del giornale di brecha quindi il nostro quotidiano e in prima pagina eruzione dell'anna quindi è arrivata anche qui con con un bellissimo articolo di un probabilmente di un corrispondente che si trovava in sicilia in quel momento e ha quindi fatto l'articolo su quel su quel fenomeno di cui appena parlato quindi è arrivata grazie a te in primis la notizia ma poi è arrivata anche grazie al nostro quotidiano quindi anche noi in precedenza probabilmente abbiamo potuto leggerlo dalle pagine del giornale di brecha in particolar modo dalle pagine online del giornale di brecha hai visto distanti ma le distanze poi alla fine le facciamo le diminuiamo perché con ci vogliamo bene hai visto come già anche brecha ci racconta di noi delle nostre vicissitudini c'è qualcuno per noi oppure però la giornata la giornata tornando alle nostre giornate anna mi chiedevi come è andata la giornata è andata benissimo come sempre impegnata come sempre piena di cose da fare e da gestire per il lavoro e per l'hobby radiofonico però giornata bella piena di soddisfazioni di vari comunicati stampa interessanti che mi sono arrivati quindi ho dovuto leggermi e sbarcarmi anche un po di mail come dicono quelli bravi e quindi mi sono un po sbarcato anche un po di mail e mi sono un po divertito così nel pomeriggio dopo aver lavorato per la ditta questa mattina come come tutte le mattine a proposito a proposito visto che siamo su ste radio dj a breve avremo il festival di sanremo come tutti gli anni insomma come tutti gli anni no perché magari ci sono delle differenze rispetto agli altri anni a causa del dell'emergenza covid però si farà ecco saluto andrea il cari ciao ho visto il messaggio e quindi io so che tu stefano ti stai occupando di anche di sanremo stai partecipando a tante conferenze stampa sul tema come sarà questo sanremo sono innanzitutto conferenze molto bella perché per me è il primo anno che riesco a occuparmi così interamente diciamo di sanremo per la mia radio quindi per me è un'esperienza prima di tutto bellissima vi dico da quello che sento da quello che si sente dire durante la conferenza che sarà un festival di sanremo molto diverso sì perché tutti i cantanti tutti gli staff tutti i presentatori tutti gli orchestrali insomma tutti dovranno rispettare ovviamente le norme antico sarà un festival senza pubblico questo renderà magari il festival un po meno bello da questo punto di vista ma bello perché ci auguriamo che sia davvero l'unico e l'ultimo ad essere con queste con queste restrizioni quindi questo fa sì che il festival sia secondo me unico perché ci auguriamo che davvero non accada più un festival del genere mi è capitato di sentire fiorello e amadeus durante la conferenza stampa alla quale ho partecipato per l'anio anche loro hanno detto sì ci auguriamo che questo sia davvero il primo e unico festival con con queste restrizioni perché per loro non avere il pubblico davanti non è poi così semplice magari non è di più per fiorello che magari è più abituato a fare anche una sorta di moment su quindi è magari un po abituato però non è facile per tutti poter purtroppo abbiamo questo questo anno abbastanza particolare un po pesante da tanti punti di vista però speriamo di lasciarcelo alle spalle facciamo anche questa esperienza di sanremo senza pubblico ci concentreremo guarda guarda chi c'è chi c'è sorpresa no volevo farvi una sorpresa bello ciao 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 miei amici quanto tempo che non ci vediamo ci vedevo tutti soli no eravate lì a fare l'invito e la vostra puntata e la vostra puntata allora ha detto arrivo io a sparigliare come al solito è fatto benissimo e devo anche dire che una puntata fatta così agita anche un po emoziona anche parecchio perché non sa chi ti trovi dalla parte dall'altra dello schermo le nostre facce consolidate sono la tua anna e la mia ma poi l'ospite non sai mai chi ti trovi quindi c'è un po di emozione nell'accogliere l'ospite lei è claudio ballini è una collega tra l'altro tu anna e lei avete recentemente proprio iniziato una rubrica invito tutti voi a seguire la vostra rubrica e se volete parlarcene brevemente visto che ho introdotto l'argomento io sono contenta che abbia partecipato proprio claudia perché così faccio ma io sono di passaggio eh ho solo fatto la comparsa di passaggio però ormai sei qui adesso fermati un po insieme a noi e ieri è stata la prima puntata della rubrica relazioniamoci e siamo state soddisfatte l'emozione c'era eh perché io tremavo anch'io 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 ero emozionata però è andata bene andata bene siamo soddisfatte che dici claudia sì secondo me poi facciamo un po' le veline io e Anna no la bionda e la mora sì sì quindi e poi ho detto i prossimi gli ospiti saranno spesso uomini perché con le due certo che è una minaccia questa è una minaccia certo Stefano sarai nostro ospite anche tu eh già eh ci devo pensare perché sai magari non mi piacciono le conduttrici magari non è vero ci sarò ci sarò sicuramente quando quando mi inviterete ci sarò sicuramente e sarà per me un piacere esserci spero di essere all'altezza di due conduttrici così e di una rubrica così importante però quando quando vorrete ci sarò sicuramente tu sarai più su tu sarai più su di noi anche perché ci racconterai l'esperienza di sanremo io l'ho sentita ora che ne parlavate sì lui mi informa di tutto io chiedo a lui che succede l'esperienza in realtà deve ancora partire e con quell'occasione per ricordare a tutti che la radio dal 2 al 6 marzo sarà non in toto ma quasi concentrata sul festival di sanremo quindi la programmazione non magari a livello sonoro ma a livello di commenti a livello di trasmissioni sarà eh incentrata sul sul festival di sanremo ma che bello ma porti anche i vip in diretta ho deciso quest'anno di di fare questa cosa visto che anche le interviste vengono fatte per tutte le radio online visto che non si possono fare in presenza questo per me è sicuramente un vantaggio e non è escluso che riesca a portare qualche qualche vip non è ancora tutto da confermare perché anche l'organizzazione stessa ha ancora tutto da confermare però non è da esclusione che io possa portarvi qualcuno a stella di licenza dai dai sì ci contiamo e si è bellissimo vediamo io ho gli appuntamento questo appuntamento fisso per noi italiani con sanremo a te claudia è sempre piaciuto sanremo l'hai sempre seguito che che hai con questo io non ho mai seguito ma io sono una che non segue né sanremo né né il grande fratello cioè amici ecco l'unica cosa che guardo è italia's got talent quella mi piace perché sì dai è simpatico poi un po' a noi anche quello ma però le canzoni di sanremo poi alla fine sei costretta a sentirle perché poi finito sanremo ce le ritroviamo ovviamente nelle radio ci appassioniamo ci piacciono alcune altre meno altre più altre meno ma chi lo conduce quest'anno è il direttore artistico che anche conduttore ovviamente è amadeus a fiorello e verranno affiancati per tutte e cinque le serate dal cantante achille lauro e dal calciatore slatan ibrahimovic che amadeus ha voluto fortemente perché dice che slatan oltre ad essere un grande campione è anche un grande mattatore un grande motivatore quindi l'ha voluto per tutte e cinque le serate aspetta stefano c'è c'è una questione non c'è neanche una donna nella conduzione ci ci saranno donne ci saranno donne i nomi i nomi non si sanno ma non nella conduzione magari da ospiti non nella conduzione perché 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 dovete chiederlo a giuseppe giuseppe e amadeus per chi non lo sapesse giuseppe cosa hai combinato quest'anno perché non ci sono le donne io ho sentito fiorello mi fa piacere siciliano che vabbè però le donne che non siano poi solamente le belle statuine che col bel vestito lo spacco eccetera eccetera questo questo ti posso garantire di nonno perché lo stesso amadeus in conferenza tabba ha fatto sapere che le donne che avrà al suo fianco nella veste che avranno sarà un ruolo molto molto importante avranno un ruolo molto importante e rilevante quindi non saranno sicuramente le belle statuine vabbè staremo a vedere ma non ci fidiamo noi e michele putrino ieri sera ce l'ha ce l'ha spiegato anche non fidatevi no io ho preso appunti anche io ho preso appunti ho capito tante cose anche del passato comunque sì va beh noi a questo punto guarderemo anche sanremo per indagare su questa cosa qui e sulle sulle donne di sanremo io mi fido di te anna non troppo non mi date troppe responsabilità ma neanche di me guardate ragazze non fidatevi troppo neanche di me perché le informazioni che raccoglono naturalmente le informazioni che io so sono informazioni raccolte non sono notizie che prendo che prendo in persona quindi non fidatevi troppo neanche di me io riporto quello che che sento e che viene detto ovviamente da fonti ufficiali questo sì ma riporto quello che viene detto sei affidabile quindi sì 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 si pensa si pensa perché se no sì ma ormai adesso poi tra fra un po inizio sanremo lo vedremo le date quali sono stefano dal 2 al 6 marzo dal 2 al 6 marzo ok ma lo sapete che il 12 marzo è il mio compleanno preparatevi eh io ve lo dico adesso perfetto così avete un po di tempo sapete allora che il 18 marzo è il mio compleanno così davvero sapete che il mio era il 28 gennaio no vabbè davvero davvero beh ormai tu l'hai fatto ti auguri Anna grazie ma sei un pesciolino stefano sei un pesciolino ovviamente sì dai si vede dagli occhi che sei un pesciolino il 18 marzo dico anche l'anno tanto sono un ragazzo lo posso dire 1984 84 io io non lo dico no perché non si chiede l'età alle donne dicono quindi noi non non vogliamo essere troppo invadenti no io sono avvertito che il mio compleanno c'è anche quello di stefano faremo una settimana di festa un po all'araba quindi possiamo fare una settimana di festa il primo tipo il 74 direte al minuto io io ci sto io da vi festeggio diciamo ci sono da per festeggiarvi io ti ringrazio tipo teletone teletone però per una settimana per sei giorni bella però questa idea guarda chi c'è chi arriva chi arriva chi arriva ah ah buone salve ma è carini è così siamo più carini così in orizzontale ognuno è proprio quadratino sì piano piano arrivano ma stefano mi ha parlato tantissimo di te ah sì mi fa molto piacere e non potevi mancare nella rubrica adesso sì adesso sei arrivata però non è che questo vuol dire che non ti invitiamo poi ufficialmente per la rubrica di moro donna grazie mille da dove ti colleghi ed scusami da dove ti colleghi eh da pineto in abruzzo provincia di teramo ah bene siamo in zona rossa arancione nella mia provincia arancione la provincia di pescarecchieti rossa beh ma stiamo unendo l'italia però noi perché tu claudia sei da ti stai collegando da da parma a zona stiamo entrando in zona arancione siamo gialli ma ritorniamo arancioni mannaggia questi colori c'è un po di prosciutto potevi offrircelo a claudia guarda salame salame prosciutto di parma poi ho il parmigiano reggiano qua si mangia eh no si vede qua si mangia anche da bruzzo allora ognuno porta qualcosa da casa bene vabbè io porto i cannoli dai per quando fosteggiare i nostri goblani ognuno porta facciamo una sorta di festa di festa virtuale purtroppo perché di persona non si può però facciamo qualcosa di di bello io porto i rossicini li avete mai mangiati no e rossicini sì 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 li conosco sono degli spiedini di pecora eh cucinati rigorosamente alla brace con una con un'apposita si chiama canaletta perché un ha una forma allungata e stretta eh sono qualcosa di sublime chiunque le assaggia ne rimane rapito perfetto facciamo questo menù partiamo il menù è facile ognuno porta qualcosa e già abbiamo il primo il secondo l'antipasto il dolce siamo a posto sicuro tu sei col dolce immagino che tu sarai il dolce Anna ma io vi porterò sì io vi porto cannoli cazzate guarda sapevo non vi non vi non vi malstratto sicuramente dai ma c'è un po' presenza sì provincia di teramo edda sì sì sai sono stata da quelle parti tre anni fa circa quando ancora si poteva girare no e siamo andata al castello di eh Ponte Scodogna Ponte Scodogna Ponte Scodogna Ponte Scodogna Rocca Scalegna Rocca Scalegna Rocca Scalegna Rocca Scalegna sì 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 in provincia di Setti sì è bellissimo perché si erge su uno sperone e quindi quando si arriva sembra quasi una la prua di una nave quindi è fantastico di questa roccia con arroccato questo questo castello molto molto suggestivo sì che poi del castello ci è rimasto poco però io ho fatto la foto con un'armatura e ho detto questo è il mio cavaliere veramente c'è un'armatura molto grande molto grande bellissimo eh ma abbiamo anche il castello di Rocca Calascio che è qualcosa di spettacolare e dove hanno girato Lady Hawk tantissimi ma lì c'è da camminare tanto c'è da andare cioè c'è da far trekking devo cartinare un po' eh sì eh prima o poi Stefano dobbiamo farlo sto sto radio DJ tour e andiamo anche da Edda guarda io quando quando si può partiamo partiamo beh vengo anch'io e facciamo allora Sicilia buona in tour arte del comunicare in tour Stefano di che in tour ci mettiamo tutti insieme bello bello sarebbe bello però ma io vorrei fare ragazza non ve l'ho detto ma anche Edda è una collega eh perché è una giornalista eh infatti io volevo un attimo per chi non la conosce far presentare eh Edda a chi ci sta ascoltando in questo momento eh presentati proprio tu eh così ci ci racconti un po' di te insomma brevemente wow eh dunque mi chiamo Edda Migliori mi occupo di comunicazione relazioni pubbliche marketing ho uno studio un mio studio che si chiama Edda Migliori e la sede appunto è qui a Fineto però poi ho collaborazioni un po' in dettaglio sono una giornalista e ho tante tante passioni infatti con Stefano ci siamo capiti subito perché non riusciamo a stare fermi nessuno dei due abbiamo sempre tantissime idee non abbiamo tanta progettualità e ci siamo ci siamo riconosciuti ecco in in questo modo di di essere quindi ho tante passioni eh mi occupo di volontariato sono vicepresidente della commissione per le pari opportunità qui nella mia nella mia città quindi tanti tanti impegni su su tanti fronti questo è un po' adoro la natura adoro la mia famiglia questa proprio per per fare una presentazione una bella presentazione il bollo proprio l'altro giorno ci siamo sentiti io edda racconto questo questo aneddoto ci siamo sentiti io edda telefonicamente proprio l'altro giorno e vi svelo che potrebbe anche a nascere una nuova rubrica su terra di Z ma lo immaginavo perché lui mi dice sì sono stanco c'ho tante cose da fare e poi due secondi dopo ma sai che farò una nuova rubrica e quindi io sono uguale sono come lui mi lamento che non mi bastano le giornate che ventiquattro ore sono poche e poi perché è bello anche così no e perché poi non non si finisce mai ci sono così tante cose da raccontare è sempre bello sperimentare come come adesso noi stiamo sperimentando questo questo salotto eh sembra un salottino è vero chiunque può e lo diciamo potete partecipare c'è avete il link lì sotto eh ci fatevi avanti eh l'ho spammato l'ho spammato l'ho spammato tipo dieci volte il link quindi la gente lo vede anche gli uomini eh non vi spaventate sì siamo eh in maggioranza donne però siamo brave donne ho cominciato di ospitare contemporaneamente fino a sei persone quindi magari poi dovrò fare io esco sempre con quella io adesso comunque esco adesso io vi saluto dove vai dove vado non so devo portare telefonate dove vado allora davvero io vi saluto grazie per aver iniziato con con questa puntata per averci fatto compagnia intanto beh grazie per avermi accolto fate entrare piacere di averti conosciuto e vi seguirò nella vostra nuova rubrica se nascerò ah sono sicura Stefano che nascerà ormai la aspettiamo con ansia dovete fare ormai ti ho infestrata Enda ormai ti ho infestrata Enda ormai ti ho infestrata Enda per ospitarti in questa rubrica ciao Andrea benvenuto mi fa molto piacere Andrea buonasera a tutti hai visto come ho detto possono partecipare anche gli uomini Andrea è arrivato Andrea è un mio carissimo amico ci conosciamo da poco però gli voglio un bene dell'anima e insieme a lui ecco ci siamo incrociati io insieme ad Andrea farò una nuova rubrica e tu insieme per la serie non 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 si finisce mai vi presento un attimo Andrea e così ve lo faccio conoscere Andrea è uno dei degli esperti dei maggiori esperti di api e del veleno delle api in Italia giusto Andrea dico male esatto no non ho la certezza al cento per cento però diciamo che sono diventato un esperto apistico dal 2014 e ho centinaia di amici apicoltori professionisti in tutta Italia quindi diciamo che ho un buon un buon campo per fare le statistiche insomma e dalle notizie che mi arrivano dalle mie conoscenze so che in Italia non siamo così esperti sul veleno delle api penso un po' l'Italia è una nazione leader per quanto riguarda l'apicoltura siamo veramente al top in in tutti i sensi anche nel nel settore del biologico no quindi parliamo di apicoltura biologica e stamattina c'è stato un un incontro online in cui ho partecipato in cui c'è stata la premiazione dei l'evento era intitolato biomelle è un concorso che si fa ogni anno per premiare i migliori mieli biologici e diciamo che la maggior parte dei premi sono stati tutti in Italia in Italia anche noi qua in Sicilia poi ci sono stati altri premi in Spagna Grecia Polonia se non ricordo male in Argentina però insomma noi siamo veramente al top in apicoltura in tutto il mondo ma per quanto riguarda il veleno delle api siamo agli ultimi posti siamo agli ultimi eppure questo veleno delle api ha delle proprietà particolari e può essere utilizzato anche come antinfiammatorio se non sbaglio forse anche antidolorifico tutto tutto è nato allora penso molto probabilmente sia Stefano che Edda non non mi conoscono e molto probabilmente anche gli altri partecipanti a questa diretta io dal 2007 ho avuto dei problemi di salute dei seri problemi di salute dopo un anno di essere sbattuto a destra a sinistra insomma non riuscivo ad avere una diagnosi ben efficace e poi finalmente 2 gennaio 2008 mi arriva la diagnosi ufficiale mi hanno comunicato che era affetto di una patologia neurodegenerativa quindi si trattava di sclerosi multipla una patologia insomma abbastanza seria da lì è partita immediatamente la mia ricerca per chi non mi conosce io ho un passato da 25 anni insomma programmatore informatico e quindi tra l'altro ho specializzato l'indicizzazione e posizionamento nei motori di ricerca e quindi ho insomma mi è stato mi è venuto facile portare avanti una ricerca molto approfondita su tutte le cure possibili esistenti insomma sia le cure convenzionali sia le cure alternative perché il mio obiettivo era quello come tutti gli ammalati di raggiungere presto la guarigione no questo traguardo particolare e niente fra ho iniziato subito con le cure convenzionali però mi sono dato alla da fare alla ricerca di tutte le cure possibili fra le cose più attendibili ho trovato il peleno delle api pensate un po' quando sono arrivato io a leggere veleno immediatamente nella mia mente è tornato come dire quando anni prima avevo studiato non so se lo sapete il termine farmaco dal greco farmaco letteralmente tradotto in italiano significa veleno e quindi quando mi è passato peleno delle api sono tornato indietro e ho detto veleno perché una medicina naturale un farmaco naturale diciamo sì sì un farmaco naturale lì si è aperto mondo io ovviamente vi faccio la supersintesi adesso perché se no il discorso è molto ampio il discorso è molto ampio ovviamente e quindi merita anche una certa attenzione anche delicatezza nel parlarne perché magari ci sono persone che hanno la stessa patologia e non vogliamo creare sicuramente false aspettative sono argomenti molto delicati sì assolutamente e molte delle mie informazioni lo trovate sul sito ufficiale il sito ufficiale è www.biopassioni.it insomma biopassioni al plurale e lì trovate molti contenuti canali principali facebook youtube e fondamentalmente la mia intenzione è duplice è quella di stimolare la comunità scientifica affinché possa valutare di portare avanti una ricerca che possa confermare questo tipo di cure alternative però ecco c'è bisogno di una ricerca e c'è bisogno di una sicurezza in certi dati io nelle dirette ne ho parlato e nei contenuti ne ho parlato spesso insomma ho spiegato tutto in dettaglio quali sono tutti tutti i passaggi che si dovrebbero superare e l'altro obiettivo è quello di creare il primo apiario didattico socio inclusivo iper accessibile senza nessuna barriera e con un'area speciale dedicata all'apiterapia e c'è anche una raccolta fondi per questo sentivo sentivo dall'intervista che ti ha fatto anno perché l'ho guardata e quindi io ti conosco sentivo che inizialmente avevi una paura folle degli insetti di qualunque tipo di insetto quindi questa cosa mi ha fatto anche un po' specie no perché dico porca mia avevo paura degli insetti poi è arrivato a studiare le api e addirittura a sperimentare una cura fatta con come l'uno di un insetto quindi complimenti da parte mia sai Stefano o bene o male oggigiorno siamo tutti molto ignoranti per quello che riguarda il mondo degli animali io aggiungerei pure il mondo dell'agricoltura perché da anni mi sono appassionato pure del mondo del biologico quindi parliamo di coltivazioni sinetiche e biodinamiche di semi antichi insomma lì apriamo un altro un'altra rubrica comunque il discorso è questo che fino a quando tu non conosci no eh il mondo degli insetti il mondo degli animali eh lo guardi con come dire hai un rapporto molto diffidente no oppure hai dei pregiudizi eh che ti portano ad avere un'idea sbagliata eh è la stessa cosa io mi sono chiesto sempre da piccolo ma come fa al circo il domatore dei leoni ad averli tutti vicino insomma e ci parla sembra sembra quasi che gli parla no sembra quasi che gli parla e loro interagiscono con lui insomma non mi sembra corretto dire obbediscono perché eh non diciamo che il leone in quel momento lo asseconda la stessa cosa avviene con me io dopo aver capito che il leone delle api poteva essere insomma molto interessante per una mia per la possibilità di una cura alternativa e poteva contribuire alla mia guarigione per essere indipendente come tutte le cose che ho fatto io nella mia vita mi piace insomma essere indipendente e non per manmi alle prime difficoltà cosa ho dovuto fare è praticamente sono ho dovuto diventare sono dovuto diventare io apicoltore in prima passione io sono diventato apicoltore in sedia a rotelle il che non è non è stato per niente facile però per ehm siccome per carattere personale se faccio una cosa mi piace farla bene mi sono messo a studiare il mondo delle api e me ne sono innamorato la cosa che dovremmo imparare tutti è che comunque non so Edda chiedo anche a te eh non non conosciamo tante cose giustamente però eh quando ci troviamo di fronte ad un problema che sia di salute o qualunque altro tipo di problema eh la prima cosa sicuramente anche informarsi è un percorso sicuramente difficile non è eh facile barcamenarsi ehm a volte ci sono anche informazioni forbianti soprattutto su su internet eh però insomma stanno cercare di capire magari anche e di conoscere magari delle terapie che magari qui non usiamo e e in oriente il veleno delle api è molto molto utilizzato sai tutto è nato perché eh quando io ho capito che in Italia viene considerato farmaco una molecola di sintesi chimica preparata al laboratorio che molto spesso anzi quasi sempre è limitazione di quello che esiste in natura solo che quello che esiste in natura non può essere brevettato eh perché è patrimonio dell'umanità nel senso siamo tutti padroni no? Quello che viene creato in laboratorio una molecola di sintesi chimica eh eh come dire quello lo possono brevettare per venticinque anni e lucrarci sopra ora fino a lì ci potrebbe anche stare bene il problema dopo subentra quando noi andiamo a eh come dire attenzionare eh tutti i lati negativi legati a a molti farmaci quindi sto parlando degli effetti collaterali effetti collaterali già lì è partita tutta la mia ricerca però attenzione eh lo voglio specificare perché questa diretta poi verrà guardata magari tante altre persone il mio non è un invito ufficiale a eh praticare l'apiterapia eh eh specialmente chi ha un problema abbastanza serio una patologia neurodegenerativa eh non si se eh per carità la libertà è di tutti quella di interessarsi e fare ricerche e sperimentare però si deve avere la coscienza che questi metodi non sono stati ancora approvati dalla comunità scientifica ed è quello è una mia finalità sto stimolando la comunità scientifica sto portando tutte le mie ricerche tutte le mie sperimentazioni poco fa Anna dicevo sono diventato espertapistico sul beleno delle api perché dopo ho studiato il mondo delle api mi sono diventato un apicoltore poi sono diventato espertapistico cioè normale apicoltore e negli ultimi quattro anni mi sono proprio specializzato nel beleno delle api nel beleno delle api perché eh nel nella mia ricerca eh c'era l'intento di eh riuscire ad utilizzare il beleno delle api che è il prodotto più prezioso delle api tutti conosciamo il miele pappareale prollile eh la propoli però il il vero delle api è sconosciutissimo ed è preziosissimo vele e siccome eh all'inizio avevo capito insomma che si poteva interagire con le api e disturbandole parecchio eh io ho cercato ho fatto una mia ricerca e ho trovato ho collaudato un metodo per disturbare meno possibile le api raccogliere il beleno e poi utilizzarlo in tantissimi settori dalla medicina alla cosmetica ad altre però non essendo io un ricercatore nemmeno un medico eh quindi non ho potuto fare altro che eh fornire ai centri di ricerca eh in questo momento ci stanno in corso delle ricerche da da parte nostra non so se vedete qui il il mio logo biopassione insomma sotto sponsorità da biopassione stiamo avviando parecchie ricerche eh anche perché chi dai la tua e tu dai la tua esperienza la tua testimonianza al servizio appunto della ricerca più che altro no per riuscire a venire a capo di questa cosa e capire quali proprietà ci parlando in tema parliamo in tema adesso no al mondo delle donne è interessante un prodotto cosmetico a base di veleno d'api perché è un anti age con un'efficacia allora allora Edda ecco qui ma sono arrivato al mondo delle donne direi perché eh ma oggi con il mercato cosmetico maschile in espansione quindi è vero quindi interessa anche a stessi ciò che è da uomo e ciò che è da donna neanche nella cosa e complimenti per ah chiedo scusa prego prego dicevo complimenti ad Andrea molto molto interessante non conoscevo le mh le proprietà del del veleno delle api quindi sicuramente approfondirò l'argomento eh tornando a ciò che diceva Annalisa è sicuramente mh il discorso dell'informazione soprattutto quando eh si ha una patologia estremamente delicato quindi il mio mio parere il mio consiglio è sempre quello di affidarsi a fonti affidabili quindi anche nelle ricerche che si fanno spesso eh sul web di verificare sempre le fonti eh perché purtroppo c'è tanta speculazione eh proprio sul sul momento di difficoltà che magari delle persone stanno eh vivendo però che benvengano benvenga la ricerca benvengano queste iniziative che porteranno sicuramente la fra le altre cose volevo specificare che eh molti eh molti perché ci sono state più di mille e seicento visualizzazioni quindi insomma molte persone hanno guardato e vedendo i miei video che io tocco le api con le mani e bello ci sta ci sta ci sta ci sta o l'ultimo video insomma in cui io li baciavo eh veramente cioè voglio specificare che per arrivare a questo ci vogliono anni e anni di studi e di preparazione quindi non si ci può avventurare un qualcosa del genere anche perché il beleno non è qualcosa di da sottovalutare eh purtroppo la maggior parte di persone oggigiorno va a mh va subito il shock anafilattico perché magari cinquant'anni fa si cresceva in campagna e fin da piccoli si prendevano delle punture degli insetti oggigiorno si cresce in città e magari in campagna si ci va quando già uno ha quarant'anni no? E quindi il sistema immunitario non le riconosce queste sostanze ed è per questo che scatta lo shock anafilattico e per questo insomma che queste cose vanno prese sempre con le dovute cauzioni e e precauzioni e chiunque insomma i limiti non sono io ho una frase che dico sempre l'unico limite a quanti in alto possiamo andare e quanto crediamo di poter salire però dobbiamo utilizzare l'intelligenza per poter salire. Parlo sempre con attenzione poi soprattutto in in campi in settori che ancora non sono eh stati sondati diciamo così eh mi piace questa diretta perché insomma stiamo parlando di esplorare cose. Esplorano campi inesplorati passami il gioco di parole. Un esperimento che ho fatto per la prima volta stasera ma quasi quasi Anna lo manteniamo come forma. Sì sì lo ripetiamo lo ripetiamo perché è piacevole. Anche a me siamo direi in chiusura però di questa puntata di mondo donna io naturalmente volevo ringraziare a tutti coloro che sono intervenuti sia in video ma anche con i commenti solamente scritti durante questa nostra diretta quindi partirei con ringraziare la prima ospite che adesso non vedete ringrazio Claudia per essere intervenuta con noi in questa puntata di mondo donna ringrazio naturalmente Andrea che invece vedete e ringrazio l'altra ospite che vedete e che presto tornerà a mondo donna ringrazio Edda Migliore per essere stata con noi questa sera naturalmente non manco nel ringraziare te Anna per essere un'ottima collaboratrice e un'ottima co-conduttrice di questa rubrica mondo donna ideata da me e da te. Ricordiamo, lo voglio ricordare in chiusura che l'idea di questa puntata speciale è stata tua e quindi ti devo fare i complimenti perché la puntata ha funzionato davvero e nulla vieta di poterla fare nuova. Di riproporla sicuramente è andata bene quindi potevo prendermi la responsabilità in senso negativo va bene è andata benissimo e ringrazio tutti voi che avete partecipato chi ci ha seguito e da Andrea Claudia che forse ci sta seguendo ancora e vi ringrazio abbiamo preso anche fra l'altro qualche minuto in più rispetto a soliti delle nostre dirette però spero che sia stato piacevole per chi è intervenuto per Edda per Andrea per Claudia sicuramente lui è stato per Stefano perché lo vedo soddisfatto guarda dobbiamo cambiare format dobbiamo cambiare questo dell'ospita sorpresa che è bello è bello allora vi salutiamo vi ringraziamo per averci seguito grazie mille a voi per l'ospitalità buona serata ciao a tutti un bacione a tutti